Quali sono i fratelli? Quali sono le frontiere del digital art? Il digital art sta subendo ovviamente una grande crescita insieme alla tecnologia che cambia a visto occhio. Stiamo vivendo un momento imprecidente di sviluppo tecnologico che non può che avere un impatto forte anche sull'arte. Matthew è stato scelto perché è un artista che ci dà il senso della contemporaneità, quindi unisce il digitale al movimento del dito, al fervore artistico, possiamo dire anche alla freddezza che apparentemente dà il digitale. In realtà le sue opere sono delle opere che trasmettono quanto una tela fatta di olio. In questa nuova epoca di informazione, di digital economy, troviamo che il visual content è quello che genera maggiore engagement rispetto a qualsiasi altro tipo di contenuto. e quindi c'è una grande focalizzazione su tutto ciò che è visuale.